Musica Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento di politica e cultura di blogficilia.it e da parecchie settimane ormai ci occupiamo di questi speciali dedicati al tema delle elezioni regionali e delle elezioni politiche e anche oggi abbiamo con noi un ospite che concorre a un seggio al Parlamento regionale, benvenuto all'avvocato Michele Pivetti Grazie e bentrovati Grazie al tempo che ci dedica, prima di tutto lei corre nella lista Fratelli d'Italia Esattamente Ma è una motivazione politica che nasce da una passione profonda? Sì, molto, è antica, io ho iniziato a fare politica Beh, passione antica non si direbbe perché lei sembra un ragazzino A proposito, quando ha fatto il patto col diavolo? Ho fatto il patto col diavolo, poi alla fine hanno durato a breve perché poi c'è il famoso calo fisiologico Tutto insieme, però diciamo che sono uno sportivo, mettiamola così Però diciamo anche che lei ha fatto il patto col diavolo perché nonostante le physique du role molto giovanile L'avvocato Pivetti è già da 21 anni cassazionista, è un uomo con tanta esperienza anche a livello istituzionale E per fare un piccolo profilo di benvenuto, è stato consulente della presidenza del Senato nel 2004 Consulente dei ministeri, quindi lei conosce le istituzioni? Sì Ha questo profilo professionale molto approfondito Sì, io ho esercito la professione forense, insegno all'università e ho oramai 18 anni più o meno di frequentazione dei palazzi Tra il Senato e la Repubblica, ministeri eccetera Poi ho anche avuto l'onore di avere incarichi a livello, ho gestito enti sia pubblici che privati Ho un po' di esperienza che mi proviene dalla mia primaria formazione che è quella giuridica E allora a questo punto lei vorrebbe mettere questa esperienza a disposizione della collettività come parlamentare? Assolutamente sì, io ho fatto gli ultimi 18 anni nel back office della politica Sono uno di quelli che ha scritto, che scrive leggi, disegni legge, emozioni, interpellanze eccetera Adesso vorrei fare parte del front office della politica perché conosco il mio territorio, amo la mia terra E credo che ci sia necessità adesso, se mi si perdona un po' di falsa madestria Un po' di qualità in più rispetto a quella che abbiamo avuto sino ad oggi Alla fine insomma si è un po' stancato di stare dietro le quinte, no? Scrivo le leggi, preparo le leggi, a questo punto voglio metterci anche la faccia nel proporre le leggi Ma assolutamente sì, anche perché è bello, mi gratifica molto Quando poi una legge supera l'esame delle commissioni, va in porto in aula, magari poi viene votata Ci vuole ricordare una legge di cui è particolarmente orgogliosa, che magari è scritto per qualche... Ma ne ho fatte tante Quella che ricordo con più soddisfazione è un provvedimento che purtroppo riguarda poco la Sicilia Beh però ci dà il metro di misura della sua propostabilità Sì, abbiamo scovato qualche anno fa dei fondi che potevano essere utilizzati per le infrastrutture delle piccole città E riuscimmo, grazie alla collaborazione di un carissimo amico, il senatore Dario Damiani Scrivendo proprio un disegno di legge apposito Un disegno di legge apposito che poi è diventato, poi abbiamo trasformato in emendamento eccetera E siamo riusciti a fare arrivare alla città di Barletta 23 milioni di euro Prima 15 e poi 8 Con cui oggi già ci sono i lavori appaltati al porto Devo dire che questa operazione fu anche politicamente molto vantaggiosa Perché Barletta finalmente dopo 60 anni di sinistra è diventata una città di centrodestra Perché i cittadini hanno capito che anche quelli di centrodestra sanno fare le leggi E quindi questa è una cosa che con orgoglio perché si è messo in moto tutta una macchina del mondo del lavoro, delle imprese Questi sono piccoli esempi ma posso ricordare anche il disegno di legge sull'educazione finanziaria Che ho tra virgolette partorito sempre con amici che stanno in senato Per educare i bambini già dalle elementari ad avere un'infarinatura di che cosa sia Un conto corrente, una banca, un assegno Molto bello questo Ed è passata questa legge Questa legge è in commissione, è già incardinata, è già passato il vaglio Poi si è interrotta la legislatura Ovviamente il Parlamento nazionale Al Senato, sì, lavoro in Senato Sarà certamente ripresa dal punto in cui si è fermata l'altro ieri la legislatura Quindi io voglio immaginare che da qui alla fine dell'anno potrebbe anche vedere la luce Quindi un piccolo monopoli per tutti i bambini con delle regole un po' più meno competitive Assolutamente sì, ma oramai viviamo in un mondo finanziario È giusto che i bambini sappiano che cosa sia un assegno o che cos'è un istituto bancario È giusto che i bambini sappiano, i ragazzini sappiano cosa è un'apertura di credito, un conto corrente Certo, sempre con la leggerezza dell'infanzia Assolutamente sì, assolutamente sì Però ritorniamo indietro a questo disegno di legge che lei è riuscito a far approvare per il porto di Barletta In realtà le leggi hanno le stesse leggi, mi perdoni il gioco di parole, in tutta Italia In realtà questi modelli potrebbero essere anche in Sicilia Potrebbero essere, assolutamente Quindi la sua esperienza potrebbe essere utile per stimolare È quello che io propongo a tutti Cioè l'esempio del porto di Barletta è un esempio che ovviamente è replicabile in tutta Italia E io ve lo vorrei portare in Sicilia Devo dire che il parlamentarismo siciliano è sempre stato un po' sordo Ma io parlo di tutti i partiti, distintamente, non voglio fare un gioco Un po' sordo rispetto a che cosa? Un po' sordo rispetto a questo tipo di, chiamiamole novità Perché nel parlamentarismo siciliano si avvita attorno ai precari Si avvita attorno ai VIP, si avvita attorno ai debiti fuori bilancio Una politica di basso profilo Dobbiamo un po' cambiare la visione Una volta un soggetto particolarmente importante disse Abbiamo le ali per volare più alto di tutti Soltanto ieri ci hanno detto che la Sicilia Non è Checozzalone, perché mi sembra una battuta di Checozzalone No, non è Checozzalone, probabilmente Checozzalone l'ha ripresa L'ha ripresa L'ha ripresa, ma devo dire, soltanto ieri ci hanno detto La signora von der Leyen ha detto che la Sicilia è il campo eolico più grande Il serbatoio di energia eolico, scusami, mi scusi Il fotovoltaico più grande d'Europa Sì, si imperiva un investimento dell'Enel Esatto, dobbiamo riuscire a comprendere Che abbiamo un tesoro immenso nelle mani Che dobbiamo tirare fuori Ora, non è che arriva per l'onorevole Pievetti di turno E cambia le regole del gioco Forse in questo caso l'onorevole Pievetti Diciamo anche in Parlamento deve vestire le panni all'avvocato Però assolutamente sì, io in questo caso mi vesto Ora, non è che voglio mutuare da Conte Che faceva il difensore degli italiani E poi abbiamo visto com'è finita Ma io mi propongo di fare il difensore dei diritti dei siciliani Perché i siciliani hanno il diritto di non pagare l'energia elettrica Quanto la stiamo pagando oggi In Sicilia abbiamo Le faccio una domanda a Bruciapelo Me lo fa finire questo Abbiamo quattro punti di energia stratosferica Che le abbiamo solo noi Abbiamo il petrolio, perché si sa Abbiamo il gas, perché c'è Abbiamo l'eolico e il fotovoltaico Anzi sono cinque Ma abbiamo anche il geotermico La Sicilia sta sotto un magma Ci abbiamo l'Etna, ci abbiamo le isole eolie Ci abbiamo la stessa Lampedusa Però quella è un'energia a maneggiare con cura Con molta cura Ma abbiamo le tecnologie per poterlo fare Però ci sono stati un po' di scandaletti negli anni passati Su questo tipo di concessioni E partiamo Non ci potremmo accontentare dell'eolico e del solare Io vivrei un po' più tranquillo Assolutamente Ne abbiamo in abbondanza Ce lo dice pure la Wanderlion Un altro Quello mi dà la stura Per parlare di un'idea che ho manifestato ai miei amici Anche durante una convention Noi dovremmo obbligare Con i contributi della regione siciliana Le grandi aziende Che sarebbero ben felici Per ora a giro moltissime aziende Sarebbero ben felici Di fare quello che sto per dire Obbligare le aziende a dotarsi di una cabina fotovoltaica Immagazzinare l'energia fotovoltaica Io per esempio Faccio questo discorso di una grande azienda di Carini A Carini c'è questa La zona industriale ovviamente Sono tante aziende E io dico Ma se qua non avete alberi Non c'è la montagna Prendete il sole 10 ore al giorno Se aveste una cabina fotovoltaica Magari con un contributo regionale Che vi aiuta a metterla su Vi dotate di grandi ovviamente Accumulatori Tutta l'energia in più La rimettete nel mercato E fate una compensazione Come si faceva una volta Il problema non si fa più Perché adesso c'è un conto energia molto basso Quindi non conviene più Però se rimoduliamo Anche ex legge Con un coordinamento Tra regioni siciliana Com'è che il conto energia è così basso E le bollette sono così esplose Sono Non sono paradossi Quelle sono speculazioni Noi abbiamo bloccato Per dirgliene una Il prezzo del gas Con la Russia Per 10 anni E siamo ancora in vigore di contratto Soltanto che Il prezzo del gas Lo quotano Sulla borsa di Amsterdam Che è una ficzio Tutto sommato Perché il gas Il futures Il bond Il gas Quello è Quello costa Per contratto Dopodiché Ad Amsterdam Fanno degli artifici finanziari Che mi dicono Guardate che oggi è così Ma fra 10 anni Non sarà così Sarà tot Allora cominciano a lievitare i prezzi E noi ci troviamo Giusto sempre parlare di questa azienda Di cui ovviamente per parlare Si mette il nome Da 28 mila euro di luce Che pagava ogni due mesi Era 80 mila Paga 96 mila euro di luce Ci sono andato anche per difetto Ma come si fa ad andare Ma hai detto guardi Ma come si fa ad andare Ma molti sono disposti a chiudere Anche panifici Pastriccerie Assolutamente Anche i nostri vicini Alla redazione Sono con l'acqua alla cola E queste sono aziende Che alla fine portano libri In tribunale Piutano Magari si rinventano Ma poi pensiamo alle famiglie Pensiamo a chi paga 100 euro di luce E domani potete spuntare 500 euro di luce Magari mezzo stipendio Per la luce Grazie Dobbiamo vivere con le candele Questo perché non abbiamo fatto Negli anni Una politica energetica Che ci renda indipendenti Pur avendo per esempio La centrale Majorana qua Che dà luce a mezza Italia E quindi adesso oggi Siamo vittime Schiavi Di questa Di questa dipendenza energetica In Basilicata Il Presidente della Regione Basilicata È riuscito a far approvare Una legge Che porta le bollette a zero Nella casa Dei cittadini lucani Le dico di più Mi faccio affinare la domanda Perché volevo capire Se è possibile Ripicare questo modello Il Presidente Bardi Il Presidente della Regione Basilicata Ha agganciato Questa legge Ha un modello di compensazione ambientale No Sostenendo Ci avete dato il petrolchimico È stato danneggiato il territorio Ora Insomma le aziende del petrolchimico Ci ripaghino Con un bonus Che noi spalmiamo Verso i cittadini Un modello di questo tipo Si potrebbe applicare anche in Sicilia Assolutamente sì Le dico di più In Basilicata bolletta A costo zero per il gas Questo modello Ovviamente adattato Al territorio Diciamo come modello È assolutamente applicabile Ma le dico di più Perché lei mi ha citato la Basilicata Sono stato tra le altre cose Anche consigliere giuridico Del Ministro dello Sviluppo Economico Nel 2015 Se la memoria non mi inganga Sta parlando di Fratelli d'Italia Che adesso parlerà bene Di un esponente del PD Perché venne Se si opera bene Che male c'è I benefici per i cittadini Non sono né di destra né di sinistra Sono benefici punto e basta Poi chi li fa Li fa Bene per chi C'è riuscito Venne il Presidente Pittella Ai tempi Presidente La Regione Basilicata A pretendere Una rinegoziazione Delle royalties Sull'estrazione Del petrolio lucano Dire molla durato Mesi 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 e mesi Alla fine Per non tediare troppo I telespettatori Il Presidente ottenne Che Una rimodulazione Delle royalties Ed una card Con 20 euro Di benzina Per ogni cittadino lucano 20 euro Non è che 20 euro nel 2015 Era Non le dico il pieno Perché non era il pieno Ma era una buona metà Di un'automobile media Questo era un grande aiuto Del cittadino lucano Perché poi alla fine Nel conto Familiare Che si fa A fine anno Il cittadino lucano Aveva risparmiato Quella piccola quota Grazie alla rinegoziazione Che il Presidente Pittella Vole fare Quindi già al tempo Si avvertì L'esigenza Di Indipendentizzare Pro quota La regione In quel caso La regione basilicata E quindi andare incontro Ad una necessità Di cittadino Ecco Questo è quello Che dovremmo fare In Sicilia Non esiste Che noi qua Estraiamo Raffiniamo Rimandiamo sopra E poi ce la ritornano indietro Beh Però questa argomentazione Apre uno scenario Sui temi Del riconoscimento Di alcuni articoli Dell'autonomia siciliana Che non sono mai stati applicati Fino in fondo E le racconto un altro episodio Ecco Parliamo dell'articolo 36, 37 e 38 Che succede? Allora Arriva l'onorevole Pivetti All'assemblea regione siciliana L'onorevole Pivetti Fa questo Quello che ha già proposto Alla regione siciliana Quindi già lei Da consulente Già l'ha proposto Da amico Da amico della presidenza Da amico della presidenza E Sinello guarda Il problema è lo statuto Certo dobbiamo applicare Essendo io notoriamente Per chi mi conosce Per chi non mi conosce Lo apprende ora Monarchico Si dovrebbe sapere Che lo statuto La regione siciliana Fu voluto Emanato E promulgato Dal re Umberto E' stato il primo atto Che il re Umberto Fece dal re Il famoso re di maggio Lo statuto del 15 di maggio Entra in vigore Prima della costituzione Esatto Lui fu intronizzato L'8 maggio E quindi a una settimana Promulgò lo statuto A cui aveva lavorato Molto Per armonizzare L'indipendentismo siciliano E la necessità Che la Sicilia Fosse parte dell'Italia Voleva la Sicilia Libera Forte e autonoma E ci dotò Di questo statuto Ora però Cosa succede Che per un meccanismo Giuridico E io ci metto Anche burocratico Lo statuto La regione siciliana Per essere applicato A necessità Dei famosi Decreti attuativi Quindi non si può Applicare To cure L'articolo Per esempio 31 Dello statuto Che dice che Le forze di polizia Dipendono Da Presidente La regione Lombardo Qualche anno fa Ci tentò Ci tentò Col generale Pappalardo Ricordo E infatti finì Come finì Vicenda spassosissima Esatto Perché poi Naturalmente Con tutto il rispetto Per il generale Pappalardo Certo Ma poi le cose Bisogna saperle portare Avanti In un certo modo Se le lasciamo Con tutto il rispetto Presidente Lombardo Ma al generale Pappalardo Poi hanno fatto La fine che hanno fatto Il problema vero Dei decreti attuativi Il problema vero Dello statuto Sono i famosi Decreti attuativi Cioè quindi In 70 Quanti sono? 70 Dal 1946 Non riesco a fare Il calcolo preciso Più di 70 76 anni Nessuno ha fatto Questi decreti Nessuno No Quando anche Facciano i decreti attuativi Poi appena arrivano In conferenza Stato e Regione Lo Stato ti dice no Perché se no saremmo Una regione Realmente autonoma E lo Stato Questo non lo può consentire Oggi Se io entrassi In assemblea Direi Bene Qua ci sono i decreti attuativi Che scrivo io Perché li so scrivere Perché ho una formazione Che mi consente Di saper descrivere Al contrario invece Almeno il 90% Di quelli che entrano In assemblea Che non sanno fare L'automobile E' ottimista mi pare Ma io ci metto Il 90% Perché voglio sperare Che il 10% Sia amico mio Tutto qua Però alzerei Volentieri la soglia Io che cosa farei Scriverei decreti attuativi Li porterei Chiederei Alla presidenza Meno male Che c'è il presidente Schifani Di portarlo in conferenza Stato e Regione A lei è già da eletto Il senatore Schifani Io do il presidente Schifani Per eletto Per due semplici ragioni Di motivi Perché i siciliani Sono sì masochisti Perché l'altra volta Il 40% Hanno votato Per i grillini Ma i siciliani Imparano dai propri errori E allora Andare contro La presidenza Schifani E cederla Al giullare De Luca Giullare lo dico In senso positivo Quindi già come competitor Voi vedete Catano De Luca Ma assolutamente C'è il presidente Io le do il mio pronostico Come fosse una schedina C'è il presidente Schifani Poi c'è De Luca Poi c'è Di Paola Poi c'è la Chinnici Addirittura la Chinnici Al quarto posto Poi c'è altri E dopo altri c'è Armau Credo che si sia cambiato Vabbè vedo Ho capito che c'è un po' di No no Voglio essere proprio Di affettuoso sfottone Con Fontino Peraltro Gaetano È una persona Che io conosco Da 40 anni A cui voglio molto bene Vi faccio il mio sincero In bocca al lupo Ben sapendo che però Di politica Una zecca poca Detto questo Io ritengo Che dare le chiavi Della regione siciliana In mano al presidente Schifani Sia dare le chiavi Della regione siciliana Ad una persona Che si va a sedere Col presidente del consiglio Con qualsiasi tipo di ministro In qualsiasi tipo di conferenza Stato e regione Con l'aggiustatorevolezza E mentre lui parla Gli altri stanno zitti Non che il presidente Musumeci non le avesse Queste qualità Perché il presidente Musumeci è una persona Straordinaria A cui voglio molto bene E con cui siamo molto amici Però il presidente Musumeci era Un politico locale Perché ha Diciamo manifestato La grande parte Della propria attività politica Che è stata egregia In Sicilia Benché sia stato anche Parlamento europeo Ma insomma È stato un politico Del luogo Il presidente Schifani È 26 anni 27 anni Non so perché È dal 96 Che invece Frequenta i palazzi Romani Dove si muovono i bottoni E questa E questa autorevolezza Consente oggi Alla regione siciliana E siciliani Di poter dire Guardi io sono rappresentato Da col tizio là A cui tutti prestano orecchio Per me è un bene Poi il presidente Schifani Può piacere O non piacere È legittimo A me piace Ma io sono Di parte È un dato di fatto Che se va il presidente Schifani A parlare con Tremonti Tremonti sta lì ad ascoltarlo Se ci va De Luca Tremonti lo riceve Se ci va Di Paola Tremonti lo riceve Se ci va la Chinici Da sola Senza che nessuno Gli dica l'auricolare Tipo Ambre Boncompagni Che cosa deve dire Tremonti La riceve Se ci va Schifani Tremonti lo riceve Anzi lo va Ad accogliere Sulla soglia Del ministero Però non c'è Una piccola contraddizione In quello che sostiene Cioè se lo Stato Da sempre Ha impedito La piena attuazione Dell'autonomia Perché oggi Ci dovrebbe essere Un governo amico Perché le condizioni Sono mutate Quindi sono le ragioni Anche della storia Della geopolitica Bravissimo La Sicilia Non può più essere Una zavorra Per l'Italia Ma non è che per caso Invece c'è la possibilità Di agganciarsi All'autonomia Che richiedono Per esempio Lombardia e Veneto E far rendere Ma benvenga Perché molti sono convinti Che sia un danno Per l'autonomia siciliana Forse invece È il momento buono Per realizzarla pienamente Ma benvenga L'autonomia Della regione Lombardia Siamo tutti uniti Sotto un'unica bandiera Che è quella italiana Poi che le regioni Più virtuose Vadano ad una velocità Le regioni meno virtuose Debbano correre Per raggiungere Quelle virtuose È solo che è un bene Non possiamo andare sempre Al passo del più lento Perché se no Saremo lenti anche noi E spesso i più lenti Siamo noi Oltretutto Appunto E allora Diamoci una bella mossa Siccome abbiamo Un momento storico In cui abbiamo La città di Palermo La regione siciliana E a Dio piacendo Il governo nazionale Avranno tutti Una stessa filiera Ricordo è più smemorati Un'omogeneità politica Un'omogeneità politica Importante Ricordo è più smemorati Che quando Si è verificata Quest'altra omogeneità politica Che camminava Sulle gambe Di altri soggetti Non su quelli Dei soggetti di oggi Quindi quando c'era Il sindaco cammarata Della prima sindacatura Il presidente Cuffaro E il presidente Berlusconi A Palermo In Sicilia Si sono fatte tante cose Dall'autostrada All'acqua nelle case ogni giorno Alla legge obiettivo 2001 Quindi Una serie di Un pacchetto normativo Che ha aiutato la Sicilia E attenzione Si poteva fare Ma molto di più Però un minimo Si è fatto Dopo che Si sono spenti Diciamo Gli interruttori E quindi Oggi Col presidente Schifani Con questo Parlamento regionale Che lo dovrebbe Aiutare Sperando che In Parlamento Vadano persone Non che fanno Gli spicciafaccende Dalla mattina Alla sera Del RAS Di turno Del Borgataro Con i voti Che abbiano Una visione Strategica Una visione Una competenza Una preparazione Tale Che consenta Al presidente Schifani Di correre E di non dover Avere a che fare Con le noie Di turno Che il parlamentare Ricchio Di turno Vi può porre Insieme al governo Nazionale Che sarà presieduto Se da Giorgia Meloni O da chi Giorgia Meloni E la coalizione Indicherà Sarà Certamente Ma è proprio Si capisce Ictuoculi Si vede Che sarà Sicuramente un motore Che consentirà Alla Sicilia Di avere uno sviluppo Che fino ad oggi Non ha avuto Ma perché Queste cose Cammineranno Su gambe solide A proposito di sviluppo Lei ovviamente Non ha nascosto La necessità Di questa Come dire Filiera politica Che mantenga Assieme Palermo E Roma Palermo Nella duplice veste Di Palermo Città E Palermo Come capoluogo Regionale Mi piace chiamarla Capitale 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 È sembrato Una misura Necessaria Oggi però Sembra un po' Fuori dai tempi E non è più Tanto allineata Io ritengo una cosa Il reddito di cittadinanza Che fino ad oggi È costato Allo Stato italiano 24 miliardi di euro Perché 8 miliardi L'anno per tre anni Peraltro il 60% al sud Esatto Sia stato Per alcuni Un ancora di salvataggio Ma oggi Così com'è Deve essere Assolutamente Riformato Quindi lo manteniamo Però diamo A me sta bene Che un soggetto Di 50 anni Che esca fuori Dal mercato del lavoro Perché la sua azienda È fallita Abbia un aiuto Di stato E anzi Lo considero Doveroso Perché l'Italia È una grande patria Non può lasciare Indietro nessuno Ma non posso Consentire Che ragazzi Di 20 anni Stiano a casa A giocare Con la playstation E con la cartina magica Vadano a riscuotere 780-800 1000 euro Le faccio un esempio Veloce Di 6 secondi Io avevo messo in regola Una collaboratrice Che aiutasse mia moglie Nella gestione di mia figlia Una babysitter La quale si è licenziata Io potevo permettermi Di pagarla Le cifre di mercato In funzione delle ore Che faceva a casa mia 500 euro La ragazza è andata via Perché Perché con reddito Faceva 780 euro Pazzesco Oggi naturalmente Mi ha richiamato Perché poi a casa Non si abilisce E voleva Stare a casa L'ha fatto rimpiazzato Un'ultima battuta Prima di salutare Chi ci ha Salutare l'avvocato Pivetti E salutare Chi ci ha seguito In questa piccola Maratonina elettorale Lei diciamo Da sempre Ha sposa questo Di dare le monariche Ma non è un po' fuori Al tempo Di dare le monariche Ma no Non è fuori al tempo Dio salvi la regina Dio salvi la regina Le migliori Le migliori E più grandi Democrazie mondiali Sono retti da monarchie Sono retti da monarchie Soprattutto quelle europee Penso alla Svezia Danimarca L'Inghilterra La Spagna L'Olanda Il Belgio Insomma Laddove tutti dicono Che c'è civiltà Sono tutte monarchie La monarchia Costituzionale Parlamentare Non è che c'è Il re assoluto L'ultimo re assoluto È il papa È il monarca Il papa re È soltanto lui Le altre sono monarchie Costituzionali parlamentari Che hanno i loro pesi E contrapesi L'ultima settimana Assoluto in uno stato È stato Luigi Che lì quando scappò Al popolare Scappò completamente di mano Oggi come oggi La monarchia Comunque assicura Una continuità Costituzionale Importante E non mette Non espone Al pubblico L'ulibrio Dei partiti O della volontà Del popolo La presidenza In questo caso Della Repubblica E chi fa il presidente Della Repubblica Ha sempre una magliettina Ha fatto parte Di una squadra Per quanto sia autorevole Ma ha sempre fatto parte Di una squadra Si immagina Se non avessimo Avuto Scalfar Per dirne una Con questa battuta Cattivissima La salutiamo Molto cattiva Qualcuno apprezzerà Sicuramente È la storia Del nostro paese Che ciò insegna Avvocato Pivetti Grazie al tempo Ci ha dedicato Io saluto Chiunque ci abbia seguito Ai nostri telespettatori Ma anche ai nostri Web spettatori Che ci seguono Su blocosicilia.it E sulla nostra pagina facebook Grazie a voi In bocca al lupo Evviva il lupo Ci rivediamo il 26 settembre Per commentare i risultati Noi siamo qui in diretta Allora lo aspettiamo Alla prossima Grazie Arrivederci a tutti Buona giornata Grazie a tutti